Noi ci abbiamo lavorato dentro, c'è una soddisfazione, un attimo ferma di un attimo. Sei emozionato? L'immensità proprio. Quindi se dovrei dire un elemento caratteristico di questo Palacongressi, per tutti noi credo cittadini, non cittadini, visitatori, progettisti è la conchiglia. Grazie a tutti. Questo Palaccio dei Congressi è una vera pelle per Rino. Rinauguriamo in fondo una città che è a 200 metri da qua all'Arco d'Augusto, 2000 anni, il Ponte di Tiberio. Non una grande struttura avulsa, un'astronave in un deserto vuoto, ma dentro la città, dentro il calore, la vita di una città romana, rinascimentale e balneare. Rinauguriamo in fondo una città romana, rinascimentale e balneare. La prima emozione è fortissima. Il mio palazzo è un spettacolo, quindi oggi sono esaltato. E poi ieri sera è stata bellissima. Ah, lei c'era? Sì, ha visto proprio lì. Ma no, che roba bella che hanno fatto. La prima emozione è un spettacolo, è un spettacolo, è un spettacolo, è un spettacolo. La prima emozione è un spettacolo, è un spettacolo. La prima emozione è un spettacolo, è un spettacolo, è un spettacolo. La prima emozione è un spettacolo, è un spettacolo, è un spettacolo. La prima emozione è un spettacolo.